iPhone 15 Pro è arrivato, l'abbiamo testato, abbiamo anche mostrato alcune immagini che fuoriescono dalle sue molteplici fotocamere, ma oggi ci spingiamo oltre perché gli abbiamo trovato degli avversari. Vedremo infatti come performa questo piccolo smartphone contro delle fotocamere di varie fasce. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia e videomaking. Oggi ho fatto per voi un confronto tra la fotocamera di iPhone 15 Pro e altre fotocamere che ho in mio possesso. Andremo a testare solamente la qualità d'immagine, ci saranno dei prossimi test che farò nel corso dei prossimi giorni, nelle prossime puntate, per cui se non volete perdervi il bottone iscriviti è qui sotto, vi consiglio di cliccarlo subito e di lasciare anche un like a questo video. Ma cominciamo subito e vi mostro un'immagine, questa, che è stata scattata proprio con iPhone 15 Pro. È stata scattata con la modalità 3x, ovvero il 77mm e questo andremo dopo a vedere perché, perché sostanzialmente ho scattato più o meno con la stessa lunghezza focale con tutte le fotocamere che abbiamo utilizzato. Andiamo a vedere un po' questa immagine e commentiamola. Innanzitutto la prima cosa che mi verrebbe da dire è niente male, perché comunque abbiamo una buona definizione, i colori sono assolutamente giusti, quindi direi assolutamente niente da dire, la trovo molto bilanciata, forse anche troppo. Non vedo granché di sfocatura, quindi nonostante stiamo usando il massimo teleobiettivo consentito e siamo abbastanza vicini al soggetto, lo sfondo non è per niente sfocato, è tutto abbastanza a fuoco e questa può essere una cosa buona, può anche non esserlo. Devo dire che nonostante la scena fosse ben illuminata, a mio avviso c'è un pochino di rumore in questa scena, quindi non è pulitissima. Passiamo alla seconda immagine, che a mio avviso è più bella. Questa è un'immagine che è stata scattata con Canon EOS M50, la prima versione, una fotocamera che mi risulta essere ormai fuori produzione, una delle prime mirrorless prodotta dalla casa nipponica e secondo me già qui la fotografia è nettamente migliore rispetto a prima. Per tutta una serie di fattori, innanzitutto vedo meno rumore e vi faccio anche presente che stavo scattando con un'ottica tutt'altro che luminosa, stavamo infatti scattando a f5.6, quindi avevamo ISO 400 e i tempi erano regolati di conseguenza, però quest'immagine la trovo più pulita e devo dire in tutta onestà che anche i colori mi sembrano più bilanciati. Ha una piccola precisazione, per essere onesti nei confronti del nuovo device dell'iPhone 15 Pro con cui ho scattato in JPEG perché non voglio usare app di terze parti, non voglio barare, queste sono direttamente dalla fotocamera, nessuna di queste immagini è stata minimamente toccata. Quindi ho scattato in JPEG anche con le fotocamere, quindi quelli che vedremo oggi sono i JPEG delle fotocamere, questo è il JPEG della Canon EOS M50 e secondo me è più bello del file EIC dell'iPhone 15 Pro. Non so, ditemi voi la vostra, vi aspetto giù nei commenti, secondo me è più bello il file della fotocamera, sia per i colori, i toni, sia perché abbiamo un minimo di sfocatura nello sfondo. Ditemi voi quello che pensate, ma io trovo che sia più bello il file della fotocamera. Ora riguardiamo un attimo il file dell'iPhone e poi passiamo alla prossima foto. Questo è nuovamente il JPEG che esce da una Canon EOS 700D su cui avevamo montato un 80 mm, quindi 77, 80, più o meno siamo sempre lì. Abbiamo usato più o meno la stessa lunghezza focale. Di nuovo, secondo me, questa immagine è migliore. I colori sono diversi perché comunque nonostante siamo sempre in casa Canon, la lente, il rapporto lente-sensore, ci sono delle differenze, quindi anche se abbiamo usato gli stessi parametri, ci sono delle differenze. Le foto non sono tutte uguali, però anche qui, secondo me, la pasta dell'immagine è migliore, i colori sono migliori, sono un pochettino più tenui, più bilanciati. L'iPhone tira molto a indovinare quelli che sono i colori. Vedete, andiamo a rivederli. Io me ne rendo proprio conto che l'iPhone sta tirando a indovinare, sta aggiungendo delle cose, sta modificando quello che io vedo veramente. In una fotografia come questa io vedo dei colori più fedeli a come dovrebbe essere veramente la scena. Tenete poi conto che è un JPEG non modificato. Ma a questo punto guardiamo nuovamente la foto dell'iPhone per l'ultima volta e passiamo a quest'ultima immagine. Inutile dire che, secondo me, questa è l'immagine migliore, ma il mio parere non vale niente, perché io so benissimo con cosa è stata scattata questa immagine. Questa fotografia viene da Canon EOS 5D Mark IV, che attualmente è una delle camere migliori in mio possesso, una di quelle sicuramente a cui sono più affezionato. Una macchina che, a mio parere, ha la qualità di immagine perfetta, perché ha una ricchezza di toni, di colori e la profondità di campo giusta in questo caso. Vedete che la distanza era la stessa, la lunghezza focale era grosso modo la stessa. Anche qui stiamo scattando con un F4, però vedete che lo sfondo è sfocato, a differenza della fotografia scattata con iPhone. Ve le faccio rivedere. Vedete, questa qui è la fotografia scattata con iPhone. Vedete com'è più artefatta, i colori sono meno belli. Qui abbiamo una ricchezza che è tutt'altra cosa e tenete anche conto che la foto che esce dalla 5D la possiamo maltrattare molto di più perché non si rovina. Possiamo fargli delle cose senza che si rovini, senza che vengano fuori artefatti. Ora, tutto quello che abbiamo visto riguarda unicamente i JPEG, quindi l'uso primario che la gente farà dell'iPhone 15 Pro perché saranno in pochi quelli che si metteranno a scattare in RAW e andare poi a magheggiare con le immagini. Il 90% degli utenti forse anche di più scatterà direttamente in JPEG e pubblicherà direttamente così. Quindi questo è l'utilizzo più puro del dispositivo, secondo me. Fra l'altro vi devo anche raccontare un piccolo aneddoto. Nel fare queste foto mi sono reso conto di una cosa bruttissima. Mi viene da piangere, guardate, è una roba... cioè, stavo scattando e mi sono reso conto che la rotella, la ghiera principale della mia 5D Mark IV non funziona più. La ghiera si è rotta. Non so come. Quella macchina l'ho usata prevalentemente in studio. È come nuova, non ha mai preso un colpo. Non funziona più la ghiera. Non funziona più per la regolazione dei tempi ma non funziona più nemmeno nei vari menu. Non funziona assolutamente su nulla. Ho anche provato a sparargli lo spray per la polvere. Niente da fare. Morta, stecchita. E quindi la camera funziona, come vedete. La foto l'ho fatta. Per regolare i tempi posso farlo comunque perché basta che accedo al menu tramite il pulsante Q e regolo i tempi da lì usando l'altra ghiera. Però la main dial, la ghiera principale, è rotta. Non funziona più. Mi viene da piangere. Quella macchina è letteralmente la mia macchina di punta, la mia preferita, la più bella che ho. E adesso c'è una ghiera rotta. Porca! E sto pensando, mi sto arrovellando perché che cosa devo fare? La mando in assistenza? Chissà quanto mi costa, quando me la rimandano, se me la rimandano, se mi conviene perché alla fine la macchina funziona. Io adesso provo a informarmi, chiedo e poi decido che cosa fare. Secondo me non gliela mando neanche, me la tengo così. Tanto funziona. Mi girano solo le scatole che la ghiera non funziona più. Porca miseria. Bene, siccome oggi vi ho mostrato questo mio lato un pochettino più intimo e sentimentale, direi che è un'ottima occasione per cliccare il bottone iscriviti e lasciate anche un like a questo video. Me lo sono meritato, visto che è tarda notte e sono qui alzato a fare questo test per voi. A questo punto vi chiedo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ovviamente questo è un confronto impari, l'ho fatto apposta per portare un contenuto sul canale, visto che c'era molto hype intorno all'uscita di questo nuovo telefono. C'è chi dice che sostituisce le macchine fotografiche, c'è chi dice che non è vero e le macchine fotografiche saranno sempre meglio. Io sono esattamente a metà. Le macchine fotografiche saranno sempre meglio, però se il 99% degli utenti si tiene in tasca l'iPhone e la macchina fotografica non la compra più, ecco che abbiamo decretato la morte per knockout tecnico delle macchine fotografiche nonostante fossero più forti praticamente in tutto. Bando alle ciance, non mi dilungo oltre, vi lascio spazio nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi perché spesso e volentieri rispondo ai commenti con degli shorts o con dei video brevi che pubblico la mattina, per cui non dimenticate di premere il bottone, lo vedo che il 60% di voi guarda i contenuti e magari non è iscritta, è un peccato. Fatemi sapere se vi interessano aggiornamenti riguardo alla 5D malata e con questo vi do appuntamento al prossimo video.